Primo storico derby al Nuovo di Tella tra il Vasto Girardi e l'Olimpia agnonese, mari di navigazione diversi, uno simoro data l'altitudine di entrambi i centri, giallo-blu con il vento in pop per nulla intenzionati a fermarsi, granata disorientati ma non ancora compromessi e nelle ultime ore hanno chiuso l'accordo con il terzino troiano ed il centrocampista Pincelli, rispettivamente dal Cupello e l'Arba Adriatica, entrambi classe 2001 ed il classe 2002 Serra, centrocampista dal Pineto, arbitra il signor Gambuzzi della sezione di Reggio Emilia, i granata partono più aggressivi, Peic inizia a prendere confidenza con il pallone senza però far troppo male agli avversari, al quarto è la volta di Abercon che se la sistema sul mancino, guerra se la cava in due tempi, di lì a due minuti il punto dell'avvantaggio per gli ospiti da costa, pisca Abercon che di testa la gira all'angolino, il portiere non può nulla e l'Olimpia passa a condurre, al ventesimo il Vasto Girardi con Salatino che prova il sinistro a giro ma non prende bene la mira, Alla mezz'ora torna in attacco l'Agnone Tankulic dal centro dell'area di prima intenzione, soluzione smorzata e gestibile per guerra, ancora chiamato in causa il portiere locale sulla conclusione dalla distanza di Abercon, chance per i padroni di casa quando manca poco all'intervallo, Guglielmi per l'acrobazia di Mercai, pallone che muore a lato, primo tempo chiuso in vantaggio dall'Olimpia agnonese, non vi sono sostituzioni, Regia di Antonio Di Perna per la seconda metà della gara, Agnone con Abercon ad un passo dal raddoppio che di sicuro avrebbe cambiato non poco l'inerzia della partita, al quarto calcio di punizione, se ne incarica Ruggeri, siamo lontani dalla porta di Caputo ma ci vuol ben altro, minuto numero 12, guida ben tenuto in marcatura, guarda la porta, conclusione deviata in calcio d'angolo, analoga situazione, dopo qualche istante con lo stesso 10 dei locali a non ottenere il massimo dalla sua giocata, e tutto un altro vasto Girardi, Salatino in area, temporeggia più del dovuto, Mercai la batte sul muro Granata, azione ultimata da guida, per lui è solo esterno della rete, ci credono i ragazzi di Prosperi, giocata di Mercai, a terra dopo aver avuto la meglio in un rimpallo, Gambuzzi dice che non c'è nulla, si rivede l'Olimpia agnonese proprio con Abercon nelle adiacenze della porta giallo-blu, azione che sfuma male per l'attaccante in maglia numero 9, 37esimo corner in favore dei padroni di casa, Ruggeri si libera dalla marcatura e sotto misura spedisce alto, ottantottesimo episodio che gela l'Olimpia agnonese Nicolopoulos su guida, il direttore di gara indica il dischetto, Caputo intuisce ma non evita il pareggio di Mercai, lo stesso attaccante albanese nel recupero praticamente in porta di testa, prende in pieno il palo sul cross di guida per quella che l'occasione più nitida dell'intero incontro finisce 1-1, Lagnone che abbandona l'ultima posizione in classifica al quarto pareggio in campionato, il vasto Girardi consolida il quinto posto e vede sempre più vicino il raggiungimento dell'obiettivo stagionale.